Buongiorno a tutti, sono Arianna Gisfredi, ho 34 anni e sto concludendo gli studi per partecipare al concorso notarile. Mi candido perché essendo stata consigliere comunale negli ultimi 5 anni ho avuto la possibilità di vedere meglio Giulia al lavoro come sindaco e credo che con la sua competenza e le sue capacità sia l'unica persona in grado di poter amministrare al momento e ancora il nostro comune nel modo migliore possibile. Il mio contributo oltre che sul piano più prettamente tecnico essendo laureato in giurisprudenza penso e spero di poterlo dare soprattutto come promotrice delle stanze provenienti dalla frazione di Staffoli in cui vivo.